Se mi vedono senza mascherina i miei del nazionale, prendo fazionale. Massimo Darina, alla fine di questo derby, è stato un derby intenso, dove poteva vincere sia il Varese che il Como, l'avete vinto voi. Mi sento di dire comunque che la svolta è stato forse il terzo gol realizzato da voi. Sì, diciamo che c'è stata una partita anche strana, come hai detto giustamente, poteva vincere loro. Anzi, ti dirò, al primo tempo, se facevano 3-4 gol io non avevo niente da dire. Abbiamo cambiato anche un po' il sistema di forechecking, perché eravamo un po' troppo sfasati, se vuoi, in questo sistema di forechecking un po' aggressivo, che non va bene con loro, perché giocavano molto con degli stretch alti, andavano in 2-1 e lì rischi di perdere le partite. Abbiamo giocato un 1-3-1, quindi più alto, più chiuso, un po' più di umiltà che dobbiamo avere con le squadre come loro, perché sappiamo che hanno tanta capacità. E l'abbiamo girata, se vuoi, poi quando vai sull'inerzia, come ben conosci l'hockey, certe cose ti vanno bene e abbiamo anche incrementato il vantaggio. Tre derby vinti, il Varese vi soffre. Probabilmente è l'avversario che non gradiscono loro. Le statistiche dicono questo. Devo dire che sono state un po' tre partite diverse, però devo anche dire che io questa sera avevo qualche giocatore in più, le altre ero sempre un po' con l'acqua alla gola e ci è andata anche bene. Io do anche dei meriti al Varese, nel senso che secondo me, ripeto, non è che lo dico se vuoi per simpatia o perché ho tanti amici di lì, ma è una squadra forte. È una squadra che, secondo me, sia loro che noi possiamo fare anche strada nei play-off. Perché no? Perché anche loro, guardando loro power, se vuoi, gli manca la fase un po' conclusiva. Però hanno trovato anche Tesini, che ha parlato tutto stasera. Quindi sai, se il portiere poi fa il suo, non è così facile. Sono convinto che sia il Varese che il Como, ovviamente da dove partiranno, molto probabilmente voi partete nella posizione migliore di quanto possa partire il Varese, però se la possono giocare. Perché con l'inserimento degli stranieri sicuramente il Varese ha tratto vantaggio. Sicuramente, ma anche noi, lo stesso Magiul, anche Di Nicola, sono giocatori che vanno bene in questo campionato qui. Anche Cappanelli, abbiamo visto stasera, fa la differenza. Cioè, anche fisico. Secondo me è anche uno straniero che farebbe bene in una categoria superiore, magari come in Alps, così, perché è anche fisico, forte. Se vuoi, deve ancora un po' integrarsi nel momento che capirà che magari certe volte deve tirare più lui da role, che cercare di smistare dischi. Secondo me fa più gol lui e il Varese ne trae il giovamento. Per trovare un alibi al Varese in questa stadione, diciamo che allenarsi al form in una pista che non è una pista da hockey e giocare in un altro pallaghiaccio, sicuramente questo non aiuta. Perché tu sai benissimo che non riesci a spiegare gli schemi. Poi quando arrivano magari gli stranieri che sono abitati in una pista, in un altro modo di giocare, sicuramente questo non aiuta. No, non aiuta. Devo dire che sia loro, anche noi, perché noi non abbiamo avuto lo stadio chiuso qua per due mesi e mezzo e ci siamo allenati non bene perché avevamo comunque 30 giocatori in pista insieme al Milano che ci hanno ospitato. Li ringraziamo. Però lo stesso Varese è sempre fuori di casa, ma ai due anni non è facile. C'è da dire che loro, ad esempio, anche col discorso allenatore, hanno avuto un po' di problemi e si vedeva all'inizio che facevano fatica. Noi abbiamo avuto sempre un organico, mancava sempre qualche d'uno, anche stasera. Se tu pensi che la coppia difensiva mia più valida e più di esperienza, Alessandro Re e Picinelli, non li ho, che però li avrò nel play-off, questo ci ha messo un po' in difficoltà. Io credo che abbiamo fatto fino adesso, meno noi, sicuramente un buon campionato. Ma il Varese e con i play-off, come mi insegni giù sotto te Roberto, è sempre un altro campionato. Quindi spero che loro si giochino le loro carte e noi le nostre. E soprattutto cambiate il tabellone, perché per il pubblico veramente... Io ci vedo poco, però si fa fatica a vedere tutto. Guarda, trovi uno che... Adesso vado alle pari olimpiadi e andrò in uno stadio da 20.000, dove funzionerà tutto perfettamente. Farò fatica, perché se sono abituato a questi stadini qui, ma anche alla Gora, abbiamo degli stadi che devono essere messi a posto, ma lo sappiamo. Speriamo che con le Olimpiadi di Milano-Cortina si possano avere dei begli stadi. Come auguro al Varese, stadio nuovo, quindi sicuramente questo permetterà loro di fare progetti anche diversi. Come auguro a Milano, la Lombardia, veramente di sfruttare questa occasione, di sistemare gli stadi e quindi di avere delle strutture completamente diverse. Grazie, complimenti per la vittoria e in bocca al lupo per i play-off. Grazie, grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.